PAPARAPA 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 TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUT I rompi bar les shows! Ladies and gentlemen, signore e signori benvenuti nella nuova puntata dei rompi bar les shows! Olé olé olé, i rompi bar les shows! Olé olé olé, i rompi bar les shows! Allora, specifico subito dall'inizio che questa non sarà la solita puntata del rompi bar les shows. In questa puntata sarò molto critico, no non nei vostri confronti perché non ho ricevuto critiche da parte vostra. Però adesso vi racconterò cosa mi è successo. Siamo andati a fare un weekend con i miei amici Claudio e Marco in Liguria, a Chiavari. Chiavari che è una città comunque stupenda, ci sono tante belle cose da vedere, il centro è molto bello, insomma. Nulla da dire su queste cose qua. Però ragazzi, adesso parlerò dell'hotel. Allora, innanzitutto la camera era molto piccola, eravamo in tre e sinceramente per tre persone secondo me era troppo piccola. All'autopulizia, quando dovevamo partire, abbiamo preso le nostre robe, no? Però ad un certo punto io ho trovato nell'armadio una mutanda verde, tra l'altro rotta, va bene, che non era di nessuno di noi. E con tanto di contolfioc. Ragazzi, così non va bene, non va assolutamente bene. Con contolfioc anche non va assolutamente bene. Secondo me, insomma, pulizia in quell'hotel lì, con l'albergo lì, lasciava molto a desiderare. Parliamo della colazione. Adesso va bene che ti servono le cameriere per questa storia qua del coronavirus che non ha la colazione a buffet e tutto quanto. Però, ragazzi, io ho fatto, sono andato in vacanza in Veneto, ti portavo la tua bella colazione con tutte le tue belle cose, che volevi prendere. Sono andato a fare un weekend a Torino, sempre con loro e anche con Manuela, e l'albergo ci ha servito un'ottima colazione, insomma. Siamo andati a Zocca, tutto quanto, anche lì nulla da dire, insomma, colazione in maniera perfetta. Lì, no, lì, proprio la scelta, potevi scegliere una cosa o l'altra. Cioè, non potevi scegliere, per esempio, cappuccino, brioche e succo. O la brioche o il succo. Cioè, ragazzi, queste cose qua non vanno bene. Così i clienti dopo non ritornano più e allontanate anche eventuali altri clienti. Cercate di migliorare, cercate di migliorare. Oh, San Pietro, San Pietro, guarda Gio, ostia, guarda Gio. Eh, ragazzi, ne sono devoto a San Pietro. Poi dopo, altra cosa, secondo me, che mi ha lasciato abbastanza allibito. Insomma, siamo andati a mangiare a mezzogiorno, appena arrivati in questo... Era una rosticceria che alla fine faceva anche il servizio, potevi mangiare, insomma, anche lì. Il bagno attaccato alla cucina, ragazzi. Questo qua, secondo me, è proprio igiene zero. Perché comunque, insomma, il bagno dove c'è attaccato alla cucina proprio, ragazzi, non va assolutamente bene. Però dopo, il ristorante che siamo andati a mangiare la sera, ragazzi, la trattoria da Vittorio, devo dire a Chiavari, nulla da dire, ottimo il cibo, ottimo il servizio, tutto quanto. Ma, il giorno dopo, ci siamo fermati a Santa Margherita Ligure, anzi no, scusate, Portofino, perché, comunque, la stazione è Santa Margherita Ligure, Portofino, però, in realtà, era Portofino il posto. Per carità, io capisco la location che è chic e tutto quanto. Però tu, non mi puoi far pagare una pizza fatta col forno elettrico, una pizza Margherita, 6 euro e 50. Cioè, ragazzi, fatta col forno elettrico e non col forno legno. Col forno legno, va bene, ma la paghi anche 8 euro perché sei a Portofino. Ma 6 euro e 50, fatta col forno elettrico, non va bene così. Il turismo, loro lontani, c'è niente da fare, cercate un po' di migliorare su queste cose. Perché così non va assolutamente bene. Porca miseria. L'hotel che ci trovi le mutande dentro e il contofiorche e la colazione striminzita, tra l'altro colazione con una brioche era così. Infatti dopo ci siamo fermati in un bar che c'era lì a fare colazione. Ragazzi, il turismo in Italia va aiutato. Bisogna migliorare anche su queste cose qua. Sono magari piccole cose che però alla gente può dar fastidio, possono notare, ecco. Per non parlare dei nostri treni, ragazzi, lasciamo perdere perché certe puzze che sono veramente, guarda, mmm, ho dei tuoi net proprio. Ecco, comunque, alla fine, per non farci mancare niente, cari miei telespettatori, oggi... Iiii... il mio classico gesto ve lo faccio. Yi-iii... Yi-ii... Chiacang ni sls!... Chiacopi ne sls... C assim im internalizzata, e guarda, samaray, co and all another. Mmmmm adam nam mt으로 change claws for a 7 principalmente mat movimiento sta不对 alla prossima puntata alla prossima puntata ciao a tutti alla prossima puntata ciao ciao